Aggressione. Ieri mattina i medici dell'ospedale di Molfetta, un genitore poi denunciato dai carabinieri, ha aggredito i medici che avevano visitato suo figlio e che ne ritenevano opportuno il trasferimento in un'altra struttura. Solidarietà ai medici aggrediti viene espressa dal sindaco di Molfetta Tommaso Minervini, dal personale ASL e dal presidente dell'ordine dei medici di Bari, Filippo Anelli, il quale ricorda che il prossimo venerdì 13 settembre si celebrerà a Bari la giornata nazionale contro la violenza verso gli operatori sanitari, dedicata a Paola Labriola. È organizzata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, insieme all'ordine dei medici di Bari. E proprio l'ordine dei medici si è fatto promotore di una campagna contro la violenza sugli operatori sanitari. Ascoltiamo. Tre aggressioni al giorno, più di 1200 episodi lo scorso anno. Sono i numeri che raccontano le violenze subite in corsia da medici a infermieri e a cui è dedicata la campagna di comunicazione voluta dall'ordine dei medici di Bari, che per le strade della città ha fatto affiggere cartelloni su cui si legge. E poi, la vita che te la salva? Anche i medici che operano nelle strutture ospedaliere del nord barese sono stati vittime di attacchi, come racconta Benedetto Del Vecchio, presidente dell'ordine dei medici della BAT. Troppo abbiamo avuto degli episodi sgradevoli che si sono verificati un paio d'anni addietro a Trinitapoli, dove dei non ben intenzionati si sono introdotti di notte nella sede della continuità assistenziale, dove c'era una dottoressa, una collega, che ovviamente ha dovuto ricorrere alle forze dell'ordine. Quando si viene lesi addirittura nella integrità fisica per il lavoro che si sta facendo, a rimetterci è il cittadino. Le campagne di comunicazione possono aiutare ad arginare il fenomeno, ma è necessario riconoscere che il medico è prima di tutto una persona. Chi sta lì può anche sbagliare. In pronto soccorso il medico, sottoposto ad uno stress incredibile, basta andare in qualsiasi pronto soccorso per rendersene conto, può anche sbagliare. Può sbagliare di fatto, può sbagliare nei modi, è possibilissimo questo. Succede tutti i giorni anche per strada. Però vorrei che fosse chiaro che quella persona è lì per dare una mano, è lì per essere di aiuto e deve essere aiutato. Il nostro compito di cittadini è quello di far capire a quelle persone che magari c'è qualcosa che non va, ma di qui a pensare. Che quella persona sia lì soltanto per farci del male, ma è stupido, è solamente stupido. È incredibile che possa accadere questo. Un'aggressione a un medico, è un'aggressione a se stessi. Io mi auguro che ci sia una ripresa di fiducia, ecco questo. Una fiducia che oserei dire dovrebbe investire tutta la nostra collettività. Dobbiamo imparare tutti a fidarci l'uno dell'altro, perché solo se c'è questo momento di solidarietà comune, allora molte cose sgradevoli possono venire meno, ma dobbiamo fidarci l'uno dell'altro. Pensare che chi fa qualcosa molto spesso lo fa per beneficialità, cioè per renderti un qualcosa, non certo per togliertela. Grazie. Grazie. Grazie.